Dalle due parti opposte della barricata, e a distanza non si sono risparmiate un pesante scambio di battute, made in cuneo. In mezzo, fra loro, un'altra donna dei palazzi della politica nazionale, Giorgia Meloni. La vicenda, il ministro monregalese Fabiana Dadone, Movimento 5 Stelle, ha risposto alla dichiarazione della leader di Fratelli d'Italia che al forum Ambrosetti di Cernobbio ha criticato il reddito di cittadinanza. Definendolo davanti alla prestigiosa platea come riportato dalla stampa, Metadone di Stato. Aggiungendo, è esattamente lo stesso principio del mantenimento a Metadone di un tossicodipendente, ti mantengo nella tua condizione, non voglio migliorarla. E io non penso che questo sia un provvedimento di sviluppo. Ed ecco che la Dadone, a cui Draghi ha delegato le politiche giovanili e quelle antidroga, alcuni giorni fa, ha affidato la replica al proprio sito web. Senza mai citare direttamente la capogruppo di opposizione, lei ha studiato ma Lei ha esperienza ma Io non sono razzista ma Sono favorevole al reddito di cittadinanza ma Lo smart working aumenta la produttività ma L'interconnessione delle banche dati aiuta i cittadini ma L'ambiente va tutelato ma I diritti sono importanti ma La salute è importante ma I giovani sono il futuro ma Non sono fascista ma Un po' criptico, certo Poi segue un chiarimento che fa riferimento al Trono di Spade, la celebre serie televisiva statunitense di genere fantastico. In Game of Thrones si diceva che tutto ciò che viene prima della parola, ma non conta niente. E se pensate che la sceneggiatura di un film abbia più credibilità dei politici a cui avete sentito dire una frase del genere solo perché in effetti queste sono sceneggiate mal fatte. Il Ma è usato per nascondere la paura di dire ad alta voce le proprie idee, non c'è cosa peggiore che vergognarsi delle proprie idee. Non si tratta di sbagliare un termine, accostare la povertà alla tossicodipendenza in maniera superficiale. Qui si tratta di avere disprezzo per i poveri, per i deboli, per i malati, una visione a compartimenti della società. Diffidate dal Ma perché nasconde la viltà di questi Nuovi, vecchi politici Porchetta e Champagne Così come la loro mediocrità di pensiero. Ma perché hanno sconso un povertà di pensiero? Diffidate dal Ma perché c'è questa cosa? Ma perché c'è questa cosa?